Bocconi killer sul territorio di Ripalta Cremasca, ancora da capire chi sia il soggetto e i soggetti da incriminare e le eventuali motivazioni, ma nelle scorse settimane alcuni residenti si sono imbattuti nei loro giardini in pezzi di cibo, talvolta formaggio, con all'interno del veleno. Un esempio la segnalazione via social dello scorso 11 marzo. Noi siamo venuti a saperlo dopo che il fatto è successo. Come comune abbiamo subito denunciato il fatto perché intanto sono un amante degli animali o cani o altri animali e come comune abbiamo già preso altri provvedimenti a tutela degli animali. L'appello è di non farlo assolutamente perché le sanzioni sono pesantissime ma ci sono anche provvedimenti penali per gli esecutori del fatto. È previsto un anno di reclusione e sanzioni oltre i 1500 euro. Avvelenare animali o disseminare bocconi avvelenati implica quattro reati. Maltrattamento degli animali, che prevede un'ammenda dai 1000 ai 5000 euro, viola il diritto di uso dei bocconi avvelenati, incaccia punendo l'uso con ammenda di 1500 euro. Poi l'articolo 638 prevede la reclusione fino a un anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui. E infine l'articolo 440 del codice penale sanziona chi avvelena sostanze destinate all'alimentazione, con la reclusione da 3 a 10 anni. In caso di ritrovamento è importante non annusare mai l'esca, potrebbe infatti contenere prodotti volatili altamente tossici.